Dal Vangelo secondo Marco Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Cari amici ben trovati. Domenica scorsa, vi ricordate, abbiamo lasciato Gesù che dava mandato al gruppo dei dodici di andare, andare e operare quanto lui aveva operato. Insegnando, guarendo, cacciando i demoni, cercando di rendere cioè presente concretamente la misericordia di Dio che era passata attraverso di lui e adesso passava attraverso i suoi apostoli. Adesso leggiamo il seguito di questo racconto, ed è un brano molto molto bello, anzi vorrei dire comunica una certa tenerezza. Innanzitutto la gioia degli apostoli di poter condividere con Gesù quelli che sono stati i frutti della loro missione. Avere Gesù a disposizione per essere ascoltati, quanto è importante, no? Avere qualcuno che è disponibile ad ascoltarti quando tu gli vuoi raccontare di te, soprattutto gli vuoi raccontare i frutti di quello che è la missione che hai svolto anche su un mandato della stessa persona che in questo momento ti dà la disponibilità di un ascolto, di un ascolto bello e profondo. Evidentemente Gesù non solo vuole consentire al gruppo dei dodici di fare, come dire, una condivisione con lui dei frutti della loro opera, della loro missione, ma si accorge che hanno bisogno di riposarsi, si accorge che forse sono stanchi, sono affaticati. La possiamo facilmente immaginare questa scena, gente impegnata da mattina a sera per il bene degli altri, per fare della propria vita un dono, che non perde però quelli che sono i bisogni che accompagnano ciascuno di noi, che avevano attraversato la vita stessa di Gesù. Lo ricordiamo al Pozzo di Giacobbe quando dice alla Samaritana dammi da bere, probabilmente anche lui stanco del viaggio. Allora Gesù, che con un'attenzione e una delicatezza davvero straordinaria, molto umana, molto tenera, a un certo punto dopo aver raccolto questa condivisione, dice venite in disparte voi soli e riposatevi un po'. Mi ha molto toccato quando Papa Francesco quest'anno, nella omelia che ha fatto il Giovedì Santo, parlando della stanchezza di noi sacerdoti, ci ha detto anche della necessità di farci una verifica su come noi viviamo questa nostra stanchezza, dove noi andiamo a cercare il riposo, se il riposo che andiamo a cercare è fruttuoso oppure è dissipante, come talvolta capita non solo a noi sacerdoti, ma a tante persone che magari puntano con delle aspettative elevatissime sul periodo estivo o sulle vacanze e poi le sciupano tornando più stressati di prima, perché magari sbagliano a trovare il modo con cui riposare. Bene, Papa Francesco si è interessato della stanchezza di noi sacerdoti e ci ha detto che c'è una stanchezza buona, che molto probabilmente è esattamente quella che risalta da questo testo, la stanchezza di questo gruppo che si è dato da fare per portare la parola del Vangelo e per portare misericordia e perdono, come ha fatto Gesù, come hanno visto fare e hanno imparato dal loro Maestro. Ma tutto questo non toglie le esigenze del riposo e dicevo Gesù in modo molto tenero si preoccupa per loro, chiamandoli in disparte, chiamandoli in solitudine. Tutti sappiamo che a un certo punto c'è la necessità di staccare la spina, di staccare la spina magari anche allontanandoci dal luogo che solitamente ci ha visto impegnati, trovare dei posti raccolti, silenziosi. Pensate come negli ultimi anni si è molto sviluppato anche il turismo religioso, il turismo spirituale, questo andar per monasteri che caratterizza la vita di tante persone anche non credenti, perché evidentemente anche uno che non avesse una prospettiva di fede sa che preso dal vortice del tran tran della vita a un certo punto devi dare un punto, devi fare una sosta, una sosta che ti rinfranca nel corpo, nella psiche. Noi diciamo una sosta che ci rinfranca anche nella vita spirituale. E allora Gesù si preoccupa, chiama questi apostoli in disparte, ma quello che però colpisce è che la gente si accorge di questo movimento, si accorge di questo attimo di tregua che Gesù vuole concedere a se stesso e ai suoi e li insegue. Allora qui vorrei fare un'altra piccola osservazione e poi lascio a voi di continuare, così come il Signore suscita attraverso queste sue parole nel vostro cuore. La solitudine, il ritiro o il distaccarsi dal tran tran quotidiano, lo staccare la spina, il prendersi un attimo di tregua per gli apostoli e per Gesù non è una fuga dal mondo, non è una fuga dalla responsabilità, ma è per tornare alla responsabilità quotidiana, ritremprati e rinfrancati per alimentare ulteriormente la capacità di fare della propria vita un dono. Avete visto la gente li insegue, a un certo punto Gesù è mosso a compassione perché si accorge che è gente sbandata, che cerca come le pecore, cercano un pastore, cercano qualcuno che dia loro una parola di luce e di verità. E gli apostoli come sono coinvolti in questo momento di ritiro in disparte con Gesù? Certamente vengono coinvolti da Gesù nella sua stessa compassione. Questo potrei dire è come una cartina di tornasole, quando vediamo che il nostro staccare la spina, il nostro riposo, il nostro rifugiarsi anche in solitudine, in un monastero, in un percorso di esercizi spirituali, oppure semplicemente prendendoci degli svaghi anche molto belli dal punto di vista psicologico, dal punto di vista fisico, ognuno sa che cosa lo ricrea, che cosa lo rigenera. Ecco, la cartina di tornasole è questa. Se tutto questo ci aiuta a tornare meglio alle nostre responsabilità, a fare ancora di più della nostra vita un dono, allora quel riposo, veramente possiamo dire è un riposo maturo, è un riposo evangelico, è un riposo non fuggiasco. Se invece quando ci ritiriamo dal mondo, anche per prenderci una pausa, torniamo ancora più stressati di prima, o torniamo più disattenti e disamorati verso le persone che gridano i loro bisogni verso la nostra persona, allora quel riposo è stato una fuga, è stato quasi un oppio. Non fa bene a nessuno, men che meno a noi. Allora buon riposo, evangelicamente parlando, lasciamoci condurre da Gesù in luoghi solitari e deserti, ma lasciamo sempre che il nostro cuore si lasci toccare dalla compassione verso chi ha necessità.